ferma lì no eh si lo so il telefono lo so aspetta aspetta prima lì in qua faccio vedere che sono soldi poi facciamo così ah no però ha paura del telefono lui no no stai tranquillo vai vai a prendere i soldi vai a prendere i soldi vai a prendere i soldi vai vai a prendere i soldi prendi i soldi là lì prendi i soldi dalle lui lui lì prendi i soldi portali qua dammeli bravo che magnifico asciugno